Grazie mille Luca, insomma ci tenevamo anche a raccontare questa esperienza direttamente dal campo anche perché insomma Luca l'ha fatta facile ma come dire decidere di buttare via dieci anni di contenuti e rifare da zero, insomma chi si occupa di lavorare con i contenuti sa quanto può essere sfidante questa mossa quindi va dato onore a Luca di questa scelta coraggiosa ma insomma sicuramente ha dato i risultati una pazzia, una pazzia ci sta come termine Bene, veniamo all'ultimo intervento, questo è un intervento della regione Mediarmagna di Tiziana Flamini eccola che si avvicina, ci parlerà del percorso che la regione ha iniziato per migrare, passare i siti oltre 40 siti a una nuova versione di Diplone ti vedo già un po' affaticata perché il primo sito ha già visto la luce quindi è già un po' provata e insomma credo che ci racconterà anche del fatto che non sia trattato solo, non è solo un progetto tecnologico ma anche un progetto come dire che hanno le sfide organizzative non banali per una realtà come la vostra insomma quindi bene 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 ecco te bene buongiorno Tiziana Flamini lavoro nel settore innovazioni digitali, date e tecnologie in particolare nell'area che si occupa dello sviluppo e della gestione dei siti web come accennava a Stefano ci siamo un po' impelagati positivamente intendo in questo proprio momento nel rifacimento di tutti i nostri numerosi portali ora poi vi farò vedere come un po' è complessa la nostra situazione del web e è proprio in un periodo in cui si parla di io comune di modelli, di agiti per i comuni abbiamo un po' unito una serie di obiettivi forse ambiziosi e defaticanti devo dire perché in questo periodo siamo online con il primo portale proprio da due giorni un portale tematico e abbiamo già rilasciato il portale istituzionale in mano alla redazione quindi già con il progetto avviato per la revisione dei contenuti quindi oggi appunto vi volevo condividere con voi questo progetto e quindi parleremo degli obiettivi dei soggetti che lo hanno creato e che lo hanno partorito l'organizzazione del web in regione è giusto due cenni visto che tardi già la fame si fa sentire come abbiamo gestito il progetto quindi dall'analisi del contesto al riferimento torniamo su io comune quindi oggi sembra dedicata tutta io comune perché proprio da quel modello di riferimento noi siamo partiti perché per la regione modelli attualmente non ce ne sono e noi volendoci appunto uniformare alle linee guida Agid abbiamo preso a riferimento appunto il modello per i comuni di Agid ci siamo creati un nostro modello non potrò dire io sanità o non potrò dire soltanto io regione Emilia Romagna perché è un progetto che noi abbiamo adattato alle nostre esigenze comunicative non so se possa essere steso ad altre regioni ma vedremo e le varie fasi che abbiamo seguito appunto per mettere in campo il progetto ora gli obiettivi chiaramente erano da un lato come accennava Stefano tecnologici noi i nostri siti sono stati aggiornati l'ultima volta nel 2018 con l'adeguamento all'allora linee guide di Agid erano in plone 5 il nostro obiettivo era quello appunto di portarli al plone 6 con la nuova interfaccia a volto che insomma ha molte opportunità e ci è piaciuta molto torniamo sul concetto dell'attenzione all'utente lo diciamo ogni volta ed è importante secondo me che continuiamo su questa linea quindi ovviamente volevamo migliorare l'esperienza utente perché comunque nel tempo quando si aggiornano nuovi siti forse di cui ogni tanto si perde un po' di vista negli anni questo aspetto che invece deve essere sempre attuale allinearci alle più recenti indicazioni di Agid che con Designer Italia per i siti dell'APA ha creato, ha spinge per un'architettura giustamente dell'informazione condivisa proprio per migliorare l'esperienza dell'utente che quando passa da un sito di una pubblica amministrazione a uno nuovo non si deve ritrovare un mondo completamente diverso l'altro che è un sotto obiettivo direi di quello sopra è la revisione ovvia dell'architettura informativa sempre guardando al modello Agid dei comuni e ridurre il numero dei contenuti non so voi ma noi ogni volta che riaggiorniamo i nostri portali ci troviamo lievitati contenuti una quantità di contenuti, una mole di contenuti non solo obsoleti ma spesso proprio non utilizzati che so, pagine o file non richiamati da nessun luogo ed eravamo arrivati a numeri che mi sa che ho messo in un'altra slide i soggetti che hanno lavorato a questo progetto sono i colleghi dell'Agenzia Informazione e Comunicazione dell'Aggiunta che si occupano della comunicazione esterna dell'ENTA in particolare abbiamo lavorato con un sottogruppo che si occupa proprio della comunicazione web il nostro settore in particolare appunto l'area portali e siti web i colleghi sono tutti lì i referenti della comunicazione delle direzioni e i referenti dei portali perché noi nei numerosi nostri portali abbiamo un referente che un po' si occupa del piano coordine, il piano editoriale del sito e gestisce le redazioni l'ho messo staccato ma non meno importante solo perché sono soggetti indiretti che sono le persone che si sono offerte come tester per alcuni diversi test di usabilità che noi abbiamo fatto sui portali sull'esistente preliminarmente all'avvio proprio del progetto per verificare quali erano gli aspetti da migliorare quindi un po' più critici e quali erano invece gli aspetti buoni da mantenere questi soggetti sono soggetti appunto in parte nella regione ma molti anche esterni ed è stato un lavoro utilissimo test di usabilità li abbiamo fatti col protocollo IGLU e abbiamo scoperto molte cose tornando all'organizzazione nostra come vedete non ci facciamo mancare nulla abbiamo un portale istituzionale che si occupa di comunicare gli aspetti più strettamente istituzionali per l'appunto dell'ente la mission della regione Emilia-Romagna e tutti i vari aspetti legati agli organismi della regione quindi diciamo una comunicazione proprio più istituzionale demandando invece ai portali tematici tutti quegli argomenti quelle funzioni appunto sulle varie aree tematiche della regione che sono ambienti, agricoltura, territorio eccetera eccetera poi abbiamo i portali di agenzia perché come sapete in regione Emilia-Romagna ci sono organismi che godono di una propria autonomia e che pertanto hanno esigenze comunicative diverse e poi i 14 siti che noi li chiamiamo speciali per darci un tono che sono i siti relativi alle campagne o ai progetti che non possono che crescere secondo me comunque ecco poi quel numero che mi spaventa ancora 470.000 contenuti web l'abbiamo misurato qualche mese fa adesso le redazioni in vista della migrazione stanno un pochino riguardando il vecchio cercando di eliminare appunto contenuti vecchi e altro numero che insomma è impegnativo sono i 350 redattori mi sono consolata mi sembra che l'università ne abbia 2000 infatti ho tolto perché insomma non è banale gestire un numero così corposo di redattori con anche skill di tipo diverso preparazioni di tipo diverso a volte alcuni di questi non è che fanno solo i redattori quindi insomma è un po' un po' complesso prima di cominciare a definire il nostro progetto cioè il nostro modello abbiamo fatto un'analisi preliminare dell'esistente valutato come dicevo prima il grado di soddisfazione percepito dagli utenti attraverso una serie di test di usabilità sui nostri portali analizzato le abitudini di navigazione della nostra utenza tramite l'analisi delle statistiche web e poi fatto una valutazione più empirica più qualitativa della capacità da parte delle redazioni di creare contenuti web strutturati che però continuassero a mantenere quei requisiti di qualità accessibilità e usabilità ora ovviamente l'ho sintetizzata perché in realtà l'analisi è stata molto più approfondita quello che è emerso anche qui è emerso un mare mondo però sintetizziamo un po' gli aspetti che sono a nostro parere stati più i focus diciamo rispetto alle scelte progettuali quello che è emerso è che per esempio le sezioni delle notizie dei contenuti di attualità non erano presenti nei menu dei vecchi siti e dei vecchi ancora attuali perché ne abbiamo migrati solo due comunque non venivano richiamati dal menu erano presenti solo nella home page del sito per cui l'utente nel momento che andava a navigare all'interno del sito perdeva un po' l'orientamento quando doveva tornare a cercare un contenuto di attualità un altro aspetto è stato quello della scarsa autonomia che avevano i sottositi i nostri portali hanno molti sottositi in particolare i portali tematici proprio perché sviluppano il tema in una serie di sottotemi per capirci l'ambiente ha tutta una serie di temi geologia aria acqua e tutte le funzioni della regione e tutte le cose che mette a disposizione la regione su questi temi bene questi sottositi erano carenti nella versione di Plon 5 diciamo delle vecchie linee guida avevano un'assenza di menu propri footer propri e elementi della testata propri per cui veniva riproposto il menu del portale bisognava ricorrere a stratagemmi discutibili per consentire la navigazione tipica del sottosito l'altro aspetto era l'attività frammentare e complessa da parte delle redazioni per creare pagine strutturate per chi e mi sembra che ce ne siano molti a Plone capisce che col vecchio Plone 5 se io devo richiamare in una pagina strutturata degli elementi che su io tipo le notizie pubblicate nell'ultimo periodo devo fare prima una collezione poi andare nella pagina creare una tile per richiamare questi contenuti l'altro aspetto era la mancanza di un contenuto dedicato ai servizi e noi finora i servizi li abbiamo rappresentati anche noi nel come fare per era una sezione che si chiamava come fare per e che era popolata da contenuti che era un tipo pagine piuttosto che c'era un altro contenuto che era scheda R che non dava una dico rigida in senso positivo comunque una guida alla compilazione del servizio per cui poi ognuno se lo compilava come gli pareva e andando a perdere quegli elementi comuni che tanto invece sono importanti per migliorare l'esperienza utente quando passa da un sito a un altro e si aspetta di trovare il servizio raccontato nello stesso modo i più il dito su invece che abbiamo rilevato dai nostri test di usabilità che le voci di menu comunque erano comprensibili e in particolare le sezioni leggi atti bandi e piani programmi e progetti erano ben comprese e ben navigate tant'è che ora come vedrete li abbiamo mantenuti allora dicevamo che il modello di riferimento nostro torna qui il modello dei comuni di Agid abbiamo utilizzato lo strumento Io Comune sviluppato dai ragazzi di Rettartor che anche con noi sono da anni dal 2009 mi pare e lavoriamo a fianco da tanto tempo quindi lo abbiamo preso e lo abbiamo proprio analizzato con un lavoro certosinico che ci ha preso quasi un anno forse più di incontri settimanali proprio con i colleghi dell'Agenzia Informazione e Stampa per verificarne appunto le compatibilità e viceversa gli aspetti che stridevano con le esigenze comunicative nostre della regione Emilia-Romagna perché ovviamente la struttura e la mission della regione è cosa diversa da quella del Comune e quindi sulla base di questa analisi così dettagliata abbiamo definito una serie di modifiche da apportare ai content type ma anche alle relazioni e al posizionamento di certi componenti nel layout del sito e abbiamo definito le interfacce e riprogettato ovviamente la struttura dei contenuti sempre utilizzando la Bibbia io il modello Agidi io Design Italia e e così abbiamo creato questo nostro prototipo modello chiamiamolo così che ha mantenuto ovviamente la macro organizzazione della regione del web della regione quindi il portale istituzionale con il satellite di portali tematici e siti speciali ha introdotto la nuova sezione novità con tutti i contenuti di attualità notizie comunicati podcast video qui c'è esplosa la voce di menu novità del portale istituzionale che è in fase di revisione in questo momento abbiamo confermato le sezioni leggi atti e bandi e piani programmi e progetti piani programmi e progetti compare solamente nei portali tematici proprio perché dai test di usabilità ci avevano proprio dato soddisfazione perché vedevamo che gli utenti si muovevano molto serenamente in queste aree e abbiamo introdotto appunto il nuovo servizio che come da modello agid con qualche modifica ora le modifiche che noi abbiamo apportato ai content type rispetto al modello di io comune sono state prevalentemente di questo tipo snellito molti content type di alcune di alcuni campi che erano obbligatori ed erano molto vincolanti noi ci stavamo stretti come regione mentre capisco che invece per i comuni potessero essere invece fondamentali un'altra cosa che noi abbiamo modificato che prima non ho evidenziato è per esempio la struttura degli argomenti nel modello io comune è stata definita una tassonomia di argomenti e poi dopo ogni content type aveva una correlazione a questa tassonomia la quale poi si espletava con l'utilizzo del contenuto argomenti che andava a pescare da tutte le varie posizioni del sito e faceva un po' da raccoglitore questo perché perché comunque un comune generalmente ha le funzioni dedicate alle aree tematiche sviluppate all'interno dello stesso sito nel nostro caso veniva meno l'esigenza di un contenuto di tipo argomenti perché come dicevo prima tutti gli aspetti tematici vengono sviluppati autonomamente in siti staccati diversi dal portale regionale e quindi non avrebbe avuto senso utilizzarlo però abbiamo usato l'etichetta argomenti proprio per mettere a disposizione sempre dell'utente un ambiente comune tanto l'utente non sa tutto quello che c'è nel back end quindi se da un comune accede al sito regionale ha comunque ben chiaro cosa si ritroverà sotto la voce argomenti e sotto la voce argomenti ritroverà appunto quelli che sono gli argomenti link alle varie per il portale regionale ai vari portali tematici e per i portali tematici ai vari sottotemi interni a ciascun portale ecco qui che come vedete il nuovo menu del portale regionale è praticamente quasi identico a quello dei modelli dei comuni tranne leggi atti e bandi analogo il portale c'è un esempio lì di portale tematico pari opportunità che di diverso ha appunto il piano i programmi e progetti mentre per i siti speciali il menu è libero perché trattando ovviamente di argomenti completamente diversi con un maggior grado di libertà diventa difficile restringere il campo delle voci di menu bene definito il progetto che ora raccontarlo così sembra una sciocchezza ma insomma siamo arrivati a dover fare i conti con i 350 redattori di cui parlavamo prima perché appunto l'interfaccia di base di plone quindi da prun 5 al volto è completamente diversa e pertanto insomma anche questo aspetto ci preoccupava e ci continua a preoccupare non poco per cui abbiamo dovuto dedicare molte energie in questo senso condivisione ovviamente del progetto con i referenti dei portali dei vari portali della cinquantina di portali che abbiamo redazione di manuali mirati per i redattori e per gli amministratori tre incontri di tre ore l'uno con i redattori noi abbiamo fatto degli incontri con Teams con tutti i redattori per spiegare l'uso dell'interfaccia e dei nuovi componenti e anche un po' la nuova architettura informativa però dell'architettura informativa si sono per fortuna occupati di più i colleghi dell'agenzia informazione stampa che costantemente affiancano intanto che li andiamo migrando le redazioni dei vari portali perché naturalmente tutto questo lavoro appunto prevede a me pure sarebbe piaciuto buttar via tutto però non abbiamo avuto lo stesso coraggio ok non abbiamo avuto lo stesso coraggio però siamo state certosiniche nel fare un lavoro di di conversione che è stata una sfida notevole e qui devo dire che anche i ragazzi di RedTartor sono stati bravissimi ci arrivo naturalmente non abbiamo buttato tutti i vecchi content type che avevamo quindi abbiamo utilizzato i nuovi content type che ha il modello io comune per capirci la notizia la nostra è un po' diversa così come le pagine ovviamente con volto sono diverse così come altri tipi di contenuto e quindi quelle sono nuove e le abbiamo riadattate ma molte che avevamo in plone 5 qui cito pubblicazioni abbiamo ripetuto video audio normativa link le abbiamo adattate alla nuova interfaccia di volto e ce le siamo portate dietro perché a noi quelli servono abbiamo fatto delle verifiche di accessibilità come sempre facciamo e di sicurezza anche nel back end ed ecco qui il lavorone di certo sinico definizione delle procedure di conversione dei contenuti esistenti dal vecchio ai nuovi tipi di contenuti è stato fatto proprio un mapping la notizia il titolo insomma tutto per tutti i tipi di contenuto e anche delle tile in blocchi perché quantomeno li volevamo tenere come traccia nella migrazione di modo tale che poi gli utenti li potessero eventualmente i redattori eventualmente rimaneggiare però era proprio per non perdere nulla e quindi di conseguenza poi è stata fatta la migrazione dal plug 5 al plug 6 la revisione dei contenuti adesso l'abbiamo fatta solo per due portali la revisione quindi dei contenuti migrati in base alla nuova architettura e già che c'eravamo abbiamo fatto anche l'adattamento del layout ma soprattutto del tema delle applicazioni al nuovo modello questo io me lo dimentico sempre nel progetto non ho detto che siamo passati dal rosso al blu sviluppa me lo dimentico perché probabilmente non l'ho condiviso fino in fondo lo dico tutta e tra l'altro non c'è il servizio stampa quindi va benissimo però siamo passati dal rosso al blu il tema è sempre sviluppato da Bootstrap Italia quindi adesso poi ve lo faccio vedere rapidamente se ci rimane tempo quindi due tonalità di blu di conseguenza noi abbiamo avendo alcune applicazioni gestite con altra tecnologia collegate dai siti dai siti plon abbiamo ovviamente dovuto adattare anche il layout e il tema delle applicazioni qui come dicevo abbiamo messo due giorni fa online il portale pari opportunità che prima ha fatto vedere anche Nicola è stato anche qui più facile di come sembrasse però insomma siamo abbastanza contenti e adesso è in mano invece la redazione del portale che è molto più corposa in mano alla redazione e lo switch al nuovo è previsto per i primi di maggio siamo molto ottimisti e pensiamo entro fine anno di migrare altri 15 portali tematici e di completare la migrazione del tutto nel 2025 ovviamente i nuovi siti che facciamo e già ne abbiamo uno in canna adesso vengono fatti col nuovo modello e io volevo faccio in tempo a far vedere al volo online direttamente online così un attimo un attimo un attimo Come vedete anche la nostra intranet è diventata nel frattempo blu ma non l'abbiamo gestita. Ecco questo qua è la nostra nuova home page che è ancora in costruzione. Ecco qui il menu di navigazione, abbiamo novità che si espande in una tendina con tutti i vari contenuti di attualità. I servizi fatti con il nuovo contenuto di tipo servizio è diviso un po' per target. Adesso al momento hanno popolato solo questa parte qua. La voce di menu come vi dicevo le giatti e bandi è rimasta quella e qui abbiamo gli argomenti, li abbiamo chiamati come sul modello per i comuni. Ma come dicevo dietro c'è un altro sistema. Ecco qui con tutte le varie voci che portano ai portali tematici. Qui abbiamo amministrazione. Bene, io con questo qui ho concluso. Niente, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Cristiana per questa testimonianza, questo progetto. È bello insomma raccontare anche questi progetti perché poi aiutano anche a continuare a sviluppare Plone. Perché insomma cresci sempre anche sulla base di quelle che sono le esigenze degli enti, delle imprese che lo utilizzano. Questo era l'ultimo talk. Spero che questa mattinata vi abbia dato dei spunti di riflessione, sicuramente. Abbiamo cercato di differenziare i talk secondo vari argomenti per comprire i vari casi d'uso. Anche per mostrare un po' la flessibilità del CMS. E sicuramente quello che ci portiamo a casa è sicuramente l'attenzione per gli utenti. Perché la tecnologia come dire è abilitante ma sicuramente va fatta sempre in attenzione. Deve essere sempre accompagnata da un'attenta progettazione a quelle che sono i bisogni e le esigenze degli utenti che usano le piattaforme digitali che realizziamo. La registrazione verrà disponibile su YouTube, come dicevo stamattina, sul canale Plone. Su Plon.gov troverete le slide ma insomma vi verrete avvisati via mail e tutto quanto. Grazie alle relatrici, tutte le valentine, e ai relatori anche. Un grazie speciale va sicuramente alla regione Emilia Romagna, a Saratura che ci ha ospitato. E vi volevo dare alcune informazioni di carattere informativo sui prossimi appuntamenti di Plone. A maggio saremo in Germania per uno sprint, uno sprint è un momento tecnico di una settimana in questo caso, dedicato allo sviluppo di Plone per farlo evolvere continuamente. Uno sprint è in corso in questi giorni in Messico, stiamo partecipando da remoto. La scorsa settimana è stato un altro sprint a Innsbruck. A giugno un altro sprint si terrà in Austria. A settembre si terrà un altro sprint strategico in Italia tenuto a Ferrara, organizzato da noi, con un focus particolare sull'accessibilità e le prestazioni. È dal 24 al 27 settembre. La parte bella è il nome dello sprint. Ogni sprint ha un nome, si chiamerà Salamina Sprint. Queen Salamina Sprint, da Emiliani. E contattateci se qualcuno è interessato a partecipare, anche in presenza, quindi insomma sicuramente abbiamo spazio per ospitare qualcuno. Durante l'estate ci sarà il Google Summer of Code. Il Google Summer of Code, chi non lo conosce, è un programma di Google, sponsorizzato da Google, che offre agli studenti universitari di tutto il mondo l'opportunità di lavorare progetti open source durante l'estate, come dice il nome stesso. Gli studenti che partecipano ricevono una borsa di studio e vengono seguiti da mentori che li accompagnano durante questo percorso. Come da tradizione la Plum Foundation parteciperà e metterà a disposizione esperti che potranno seguire alcuni studenti per continuare a fare evolvere e a sviluppare Plum. Dal 25 novembre al 1 dicembre saremo in Brasile per la Plum Conference. Altri due appuntamenti non ploneschi. Sabato 11 maggio a Ferrara si trarrà l'avvento che si chiama Individuo e Interazioni. È una giornata di dialogo dedicata al confronto e collaborazione tra il mondo del design, il mondo agile e il mondo dei programmatori, questi loschi figuri. È un evento organizzato da Italian Agile Movement, Architetta e Giallo Cobalto. Ci saremo anche noi con un banchetto, quindi insomma venite a trovarci. E poi dal 21 al 23 maggio saremo a Roma a Forum PA. Quindi grazie a tutti, dalla partecipazione ancora. Alla notte, noi abbiamo dei orari tutti particolari, tutti speciali. Se le relatrici, le valentine, i relatori si vogliono fermare per una foto, molto volentieri. Gli altri li salutiamo e alla prossima. Grazie. 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 Grazie.